Musica Incidente oggi, lunedì 28 maggio, poco prima di mezzogiorno, in via Carlo Vigna, angolo via Marconi, a San Giorgio Canavese. A scontrarsi frontalmente una fiat panda e un pullman di linea GTT. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Castellamonte, il soccorso avanzato di Caluso e la polizia locale di San Giorgio Canavese. Il conducente della vettura, un giovane residente a San Giorgio, è stato estratto dalle lamiere dell'auto e stabilizzato dai sanitari. Quindi è stato caricato sull'elisoccorso e portato all'ospedale CTO di Torino. Pare che abbia riportato una frattura del femore, non è in pericolo di vita. In lesi, i passeggeri del pullman che sono stati caricati su un altro mezzo GTT. Secondo una prima ricostruzione, il pullman stava arrivando da via Marconi quando la panda ha svoltato. Lo scontro è stato inevitabile, ha certamente incorso sulla dinamica a cura della polizia locale. Grazie a tutti.